Grazie a tutti Ci attende una grande partita Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare La loro comparsa sul terreno di gioco Io sono Fabio Charesse e qui con me C'è Luca Marcheggiani Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa La partita di oggi si preannuncia interessante Speriamo che sia all'altezza delle attese Tutto pronto? La sfida può avere inizio E siamo agli ultimi 90 minuti di questa prima metà della stagione Polla al centro E manca il cross per un soffio Ottimo disimpegno Fondamentale Un po' di indecisione sul da farsi Gioca con un pallone lungo Intercetta il passaggio Pericolo Prova a passare con un pallone profondo Tocca verso il centro Ottima pressione la sua Palla recuperata Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene Ecco Zapata Tocco morbido Pallone promettente Il difensore può spingersi in avanti Palla che va a finire il calcio d'angolo C'è il colpo di testa E c'è il gol della Samboria E segnano il primo gol dell'incontro La difesa era ben schierata Ma è riuscito comunque a trovare lo spazio E a insaccare Ha difeso benissimo il pallone Con il fisico Poi si è coordinato E è andato al tiro Guagliarella Realizza il quarto gol stagionale E il risultato si sblocca 1-0 Sono passati in vantaggio Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita Pallone in mezzo Conclusione al volo Non è riuscito a buttarla dentro La Samboria deve dimostrare maggiore attenzione Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose Quagliarella Quagliarella Sapata Con la palla alta sulla fascia Pallone buono per la sua iniziativa offensiva Intervento al limite Mi è sembrato regolare Passaggio Occhio al tiro Hanno trovato il gol Sembrano avere il totale controllo della gara Un gol bellissimo da manuale Quagliarella Batte il portiere per la quinta volta in questa stagione Quagliarella E si riparte da un nitto 2 a 0 Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità Chance per tirare Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla Tentativo molto ambizioso, forse troppo diciamoci la verità Era difficile battere il portiere da quella distanza E intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa Agostini Lancio lungo del portiere Pallone alto e lungo sulla fascia Jacopo Sala riceve in posizione interessante Pericolo Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco Che primo tempo hai visto Luca? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa Dovrà cercare di non complicarsi la vita Ma è difficile che accada Oggi è davvero in palla Ecco il fischio dell'arbitro Inizia il secondo tempo Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti Per mettere in difficoltà gli avversari Ma soprattutto per riprendere fiducia loro L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara Se vogliono dare una svolta Devono farlo adesso Cerca il tiro Zappata Perfetta la parata È incredibile che ci sia arrivato Sembrava un gol fatto Può colpire Il difensore recupera il pallone La mette in avanti Bell'intervento E l'arbitro dice che non è fallo Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta Il difensore però ha trovato il tempo giusto Bel duello Cerca l'uomo là davanti Ecco Zappata Guagliarella La gioca a sinistra La Sampdoria Si trova in una situazione delicata Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili Sembra però avere ancora la fiducia della società Io Fabio solitamente odio criticare gli allenatori Spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa Soprattutto è facile parlare col senno del poi Per oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state indifendibili Cerca la profondità sulla fascia Il pallone è sulla sinistra Ora cosa succederà Jacopo Sala Spazza via senza pensarci due volte Prendi Jacopo Sala E sarà rimessa con le mani C'è movimento lì a bordo campo E dunque forze fresche in gioco In effetti non ne aveva più L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo Agostini Mirivojevic Ormai Fabio la partita è persa Ma questa squadra non può mollare Non può mollare così Deve lottare fino alla fine Per rispetto della maglia e dei tifosi E trova bene il compagno Passaggio in avanti Situazione spinosa Ma il suo intervento è stato provvidenziale Prova a verticalizzare Ecco Zapata Così senza Varchi non aveva un'alternativa Cerca di rinunciare il compagno Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica Vanno sfruttate decisamente meglio Cerca spazio E va al tiro E l'arbitro chiude qui la partita Non hanno molto da recriminare Bisogna dirlo Hanno dato il massimo Hanno sì provato a concretizzare Ma non ci sono riusciti Il direttore di gara Sancisce la fine Qual è la tua opinione sulla gara? Non sono riusciti ad aggiustare la mira E quando c'era la mira Mancava la potenza Devono invertire questa tendenza Prima che sia troppo tardi Ed è davvero tutto per questa sera Grazie Luca Un saluto Da Fabio Caressa Paura 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 Paura